Sta lavorando a pieno ritmo il pronto soccorso dell'ospedale Marisca di Torre del Greco. Dopo la riattivazione lo scorso 16 giugno con la visita del governatore della campagna Vincenzo De Luca, accompagnato dalla vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia e dal consigliere Mario Casillo, le attività sono riprese a pieno regime con un'organizzazione funzionale ad erogare servizi all'utenza e sono tanti gli accessi quotidiani. Il pronto soccorso fu dismesso lo scorso 15 ottobre a seguito della trasformazione del presidio torrese in Covid Hospital con una dotazione di 26 posti letto per pazienti a bassa media intensità. A pieno ritmo lavorano anche le due sale operatorie. Lo scorso 6 giugno, dopo i lavori presso il blocco operatorio del terzo piano del vecchio padiglione, erano già riprese le attività. Previsto anche un ampliamento d'organico per i tecnici della radiologia. Tra le novità, infine, l'attivazione a breve di un ambulatorio per la diagnosi precoce dei melanomi che sarà attivato al primo piano del nuovo padiglione presso l'area dedicata agli ambulatori. In occasione della visita del presidente De Luca, il direttore generale dell'Asla Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, ai microfoni di TV City, aveva annunciato i futuri piani di sviluppo per il presidio torrese. Ci sarà il potenziamento invece in fase 2 dei reparti di chirurgia. Medicina già è un ottimo reparto, lo abbiamo potenziato durante il Covid, e quindi quei potenziamenti rimarranno, aiuteranno, amplieranno l'offerta di posti letto che già c'era precedentemente. E in previsione la ristrutturazione del terzo piano e del quarto piano, già in questa prima fase, e speriamo di riuscire anche a fare il quinto piano. Parlando di tempi, quando riusciremo a vedere tutte queste cose che avete in mente di fare? Guardi, allora, luglio è l'avvio dei lavori dei sei posti di subintensiva, ed è il primo step perché abbiamo già redatto, anzi la progettazione verrà consegnata entro il 30 giugno, l'avvio del cantiere è previsto nel mese di luglio. I tempi dovrebbero essere tra i 4 e i 5 mesi per la realizzazione, quindi entro la fine dell'anno i sei posti di subintensiva. Abbiamo invece il progetto esecutivo per il terzo e il quarto piano, sono un investimento complessivo, riguarda anche altre aree del presidio, ma riguarda complessivamente un investimento di 6 milioni di euro. Siamo per bandire la gara nel mese di luglio, i tempi di aggiudicazione della procedura dovrebbero essere entro l'estate, quindi avvio del cantiere nel mese di settembre. Sarà un cantiere importante perché è un cantiere di 6 milioni, qualche mese di sacrificio da parte di tutti per rendere funzionali questi due ulteriori piani, questi due ulteriori livelli. Abbiamo appena finito di ristrutturare le sale operatorie Vecchio Corpo, che nel momento in cui c'è stato il Covid sono state disattivate, abbiamo utilizzato l'altra struttura, adesso abbiamo completato la manutenzione straordinaria che ci consente di dire che le sale operatorie, il blocco operatorio adesso è pienamente funzionale.